Ogni giorno incontriamo decine di persone che nel bene o nel male non sappiamo le sofferenze che stanno vivendo, i momenti che stanno attraversando. Per me la misericordia è distogliere lo sguardo da se stessi per riuscire ad essere più vicino all'altro nella consapevolezza delle reciproche differenze. Grazie a tutti.